Bentornata Atalanta, si è un ritorno dopo due anni perché l'anno scorso purtroppo non è venuta a Rovetta, ha scelto un'altra destinazione, siamo orgogliosi di ospitarla, è stato tutto abbastanza repentino perché ci hanno chiesto di poter venire il 2 di giugno, quindi ovviamente il tempo non era tanto per decidere, abbiamo scelto nel giro di una settimana, le condizioni erano tali per cui potevamo ospitare nel migliore dei modi l'Atalanta, quindi loro sono stati molto bravi, molto cortesi, ci sono venuti incontro in diverse circostanze, noi nel contempo speriamo di aver onorato i nostri impegni e il nostro lavoro e quindi oggi è un bellissimo arrivo e penso che ci sono tutte le condizioni per un bellissimo ritiro a Rovetta di 3 settimane. Un ritiro che aiuterà anche il turismo di Rovetta? Sicuramente sì, a Rovetta, innanzitutto ovvio l'Atalanta è la squadra dei bergamaschi, quindi Rovetta terra di Bergamo, quindi ci tiene particolarmente però è un'attrattiva molto forte anche per i villeggianti perché abbiamo visto negli scorsi anni che anche i milanesi sono molti interessati della nostra squadra, anche perché ovviamente è una squadra di serie B ma facciamo conto che torna in serie A, quindi è una squadra di primo livello. Sindaco, tifoso, amante del calcio, tifoso d'Atalanta? Sono un tifoso moderato assolutamente, sono un atalantino comunque sì. In compagnia di Cersei Perretti, titolare della Onis e dello store Atalanta che oggi ci presenta le nuove magliette dell'Atalanta in casa e in trasferta. Dici un po' Cersei, chi ha scelto questa maglia? Ci descrivi un po' i colori che sono sempre quelli ma in versione diversa. Chi ha scelto la maglia è la scelta della società, come tutti gli anni la società sceglie la maglia, naturalmente non la scelta l'attuale dirigenza perché è stata scelta prima. Non è facile disegnare una maglia partendo dalla tradizione delle righe. Quest'anno ho voluto fare questa nuova linea con le righe molto strette. Vuoi sapere qualcos'altro? Invece per la trasferta abbiamo questa riga trasversale nuova. Questa è un po' più particolare sul bianco, puoi sbizzarirti. La riga è stata riproposta negli ultimi anni. Quattro anni fa avevamo la riga orizzontale, poi abbiamo fatto la riga in verticale, la doppia riga. L'anno scorso abbiamo presentato quella che richiamava la maglia di Lisbona, della Coppa UEFA e quest'anno invece siamo partiti con questa maglia diagonale. Secondo me è stata scelta in onore ai tifosi che cantano sempre che siamo il Brasil. Richiama un po' le squadre sudamericane questa linea. La chicca più bella però è il retro. Abbiamo stampato su ogni maglietta il simbolo di Bergamo con la bandiera della provincia. Sì, su tutte le maglie, non solo sulle maglie gara ma anche su tutta la linea d'allenamento, sulla linea anche da tempo libero dei giocatori. Quindi sulle magliette che indossano i giocatori quando sono a riposo e quando vanno in trasferta. Su tutti i capi c'è il logo di Bergamo con la scritta.